Nel giorno, nel giorno in cui una tra Milan e Inter arriva in finale di Champions League la Juventus rinnova il contratto di Alessandro Il video potrebbe concludersi così in realtà sarei quasi tentato da interrompere il tutto anche perché comunque del rinnovo di Alessandro io avevo già parlato e ho spiegato che secondo me va anche in una direzione legata al fatto che la Juventus quest'anno non avrà la possibilità di fare tanti acquisti non ci riuscirà e dato che c'era un rinnovo automatico programmato si è cercato di unire l'utile al dilettevole infatti quando io leggo ad oggi i nomi di Pau Torres, Milinkovic Savic sta gente qua posso fare altro che farmi una grossa e grassa risata già per il discorso che avevamo iniziato ad affrontare nel video di oggi uscita a mezzogiorno ve lo lascio qui sopra nelle schede perché questi due video sono molto strutturati insieme e anzi in quest'altro video che spero possa essere un po' più breve andrò a prendere tanti di quei frammenti che ho lanciato all'interno della mia omelia di questa mattina ritorniamo sempre lì torniamo sempre lì al discorso legato al progetto sportivo di Juventus Alessandro rinnova per un altro anno fino al 30 giugno 2024 è una non notizia in realtà perché lo sapevamo attendiamo ora l'ufficialità tra l'altro a quanto risulta il rinnovo è scattato per presenze nella sfida d'andata col Siviglia dove è stato schierato titolare da Massimiliano Allegri e addirittura Romeo Agresti dice Juventus avrebbe comunque appunto rinnovato Alessandro anche senza rinnovo automatico e questo secondo me va per forza di cose nella direzione del non ho idea di quello che accadrà in questa stagione, in questa estate però attenzione che c'è qualcosa che dice Giovanni Albanese e che mi fa molto arrabbiare ma mica pregaudici Giovanni, poverino lui riporta soltanto un'informazione e cioè che questo contratto rinnovato fino al 2024 dovrebbe vedere appunto la stessa roba che era successa a Quadrado l'anno scorso e quindi un contratto che va a prendere il pieno rispetto a quello che era già l'anno scorso e cioè 6 milioni e mezzo all'anno 6 milioni e mezzo all'anno ad Alessandro nel 2023 nel giorno in cui una tra Inter e Milan arriva a qualificarsi per la finale di Champions League nel giorno in cui una tra Inter e Milan arriva a qualificarsi per la finale di Champions League la Juventus rinnova il contratto ad Alessandro per un'altra stagione a 6 milioni e mezzo di euro a stagione con il ragazzo che ormai ha superato i 30 anni e andrà a spegnere 32 candeline io questo video è strano scusate sarà strano perché è qualcosa di francamente incomprensibile dicevo ritorna al discorso del progetto sportivo perché io io mi immagino giuntoli che entra alla continassa eventualmente se sarà il suo primo giorno di lavoro apre la porta e si ritrova questa situazione e non si sa se se si giocherà in Europa in Champions in Europa League e non si sa i punti e non si sa se tornano Artur, Zaccaria, Kuluseschi e McKennie e non si sa se Di Maria rinnova anche se oggi Romeo Agresti diceva c'è stato qualche contatto con l'entourage di Di Maria adesso si va in quella direzione non si sa se rinnova Rabiot non si sa chi rimane di quelli che ancora hanno un nome importante e mercato che possono essere Vlaovic Chiesa ma lo stesso Bremer tutti i giocatori magari Locatelli che ne so Fagioli giocatori che comunque possono avere una sorta di mercato metti che in condizione poi con la Juve che non si qualifica arriva l'offerta della grande squadra e magari sul piatto un contratto ricco perché la Juve oggi il contratto ricco non lo può mettere il contratto ricco non lo può mettere però la Juve non può mettere il contratto ricco ma fa rinnovo di un anno ad Alessandro anche obbligata la cosa che da fastidio è che la Juventus oggi è pure obbligata a fare il contratto ad Alessandro perché se sul rinnovo di contratto precedente ad Alessandro c'era scritto che era presente una clausola automatica che scattava magari oggi Juventus avrebbe pure voluto non rinnovarlo però si ritrova in una morsa in cui mercato lo fai boh il contratto automatico si supera le tot presenze e le tot presenze lui se le fatte e sei costretto pure a rinnovarlo a 6 milioni e mezzo capite la situazione di follia totale nella quale ci stiamo trovando capite la situazione paradossale perché è una situazione paradossale questa non ci sono soldi bisogna limare il monte ingaggi bisogna cercare di dare un giro di volta dal punto di vista di quelli che sono qui da tanti anni e ora è necessario e giusto salutare dopo un buon percorso all'interno di Juventus e noi a maggio 2023 rinnoviamo il contratto di Alessandro perché i vecchi contratti avevano dentro queste robe qui allora facile poi io sono il primo che si riempie la bocca di progetto sportivo di cercare di mettere giù le cose ma se dentro la Juventus ancora abbiamo questi contratti queste clausole che sono pensate per una squadra che che dà 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 e dà e questi sono gli errori grandi che ci hanno portato a ridimensionarci questi sono gli errori importanti che hanno portato poi la Juventus a indebolirsi perché perché se se ti impiedi una struttura che non si può sostenere e succedono due o tre cose in mezzo come una pandemia dei conti fatti male per l'acquisto legato a Cristiano Ronaldo con la pandemia la necessità comunque di vendere giocatori che però poi ti ha portato a indebolirti a raggiungere meno risultati in Italia a raggiungere meno risultati in Europa e però alcuni giocatori che non hanno mercato hanno delle clausole che vanno rinnovati a cifre fuori mercato per quasi tutti maggior ragione per un giocatore di 32 anni che da qualche anno a questa parte non è più in grado di fare la differenza come invece faceva nel momento in cui è stato strutturato questo contratto ragazzi avete voglia voi di parlare di progetto sportivo e di cosa possiamo parlare di cosa possiamo parlare possiamo parlare semplicemente di di farci scivolare addosso tutte queste cose di arrivare a luglio 2024 quando arriverà il contratto di Bonucci alla scadenza arriverà il contratto di Alexander alla scadenza arriverà forse anche quello di Cesni alla scadenza e si dovrà iniziare a guardare un altro portiere dato che si sta monitorando carne secchi ci sono tanti giocatori nella Juventus che oggi guadagnano di Pogba io non parlo nemmeno più arrivato a questo punto sono stati fatti quattro anni di contratto Rabiot scade quest'anno Quadrado scade quest'anno l'anno prossimo forse scadrà pure Di Maria si rinnoverà quindi ci sono un insieme di fattori che ti dicono quest'anno magari non fai mercato quest'anno magari sei bloccato quest'anno magari non sai se c'hai le coppe quest'anno magari la rosa bene o male sarà questa con l'aggiunta di due o tre ragazzi che ti prendi su del settore giovanile e magari un paio di acquisti che ne so un esterno destro e un centrocampista se parte per il resto io ragazzi non mi aspetto dei movimenti della Juventus in chiave mercato poi magari sarò il primo a essere stupito ma il rinnovo di Alessandro sia per motivazioni legate appunto a un obbligo contrattuale sia per motivazioni legate a un'impossibilità di andare sul mercato ma secondo me la possibilità di vedere la stessa rosa della Juventus l'anno prossimo se non con due o tre cambi è molto molto elevata poi qualcuno mi dice il rinnovo di Alessandro significa che rimane Allegri perché comunque il rinnovo di Alessandro la clausola del rinnovo automatico di Alessandro parte da prima del fatto che torni Allegri a Juventus e che ci sia un Allegri bis e due anni di Allegri bis e poi ne mancano altri due cioè sono cose scollegate è ovvio che magari avranno chiesto ad Allegri ma Alessandro cosa facciamo lui avrà detto ma sì dai un altro annetto glielo facciamo fare questo è molto probabile non plausibile molto probabile ma questo non significa che poi Allegri sarà l'allenatore di Alessandro l'anno prossimo quindi è dura cioè è veramente dura perché è difficile mettere insieme i pensieri e le parole in questo momento per cercare di far uscire un'analisi di un certo tipo perché come la guardi la guardi stiamo parlando di un giocatore in fase calante con un ingaggio molto alto che ha già fatto quasi una decade alla Juventus arriveranno momenti migliori ragazzi ve lo giuro ve lo prometto ve lo giuro e ve lo prometto arriveranno momenti migliori e in questo momento qua dobbiamo guardare gli altri che avranno in finale di Champions che ne dobbiamo rinnovare Alessandro perché perché sì perché c'è da scontare tanti errori fatti nel passato purtroppo Grazie a tutti